Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Se siete appassionati di film western o anche se semplicemente ne avete visto uno con un bell'assalto al treno, sicuramente avrete avuto questa voglia di fare come i banditi, salire sul treno a vapore, saltare da una carrozza all'altra sopra il treno e andare ad arraffare il più bottino possibile. Poi avete abbandonato l'idea sicuramente perché un po' non ci sono treni a vapore in giro e un po' parrebbe che sia illegale farlo. Ma a questo punto vi posso dire che potete coronare il vostro sogno con Colt Express, un gioco di Christophe Rimbaud di per due 6 giocatori della durata di circa 40 minuti. L'ambientazione ve l'ho detta, siete dei banditi, siete su un treno, dovete prendere il più bottino possibile e farlo prima che il treno arrivi in stazione. A inizio partita ogni giocatore può selezionare uno fra i 6 banditi disponibili all'interno del gioco, ciascuno con una diversa abilità speciale. Prende quindi 6 proiettili e le 10 carte azioni comuni per tutti i giocatori. Si gioca poi su 4 turni più 1 finale di stazione, ciascuno diviso in round successivi. Durante ogni round previsto dal turno in corso, i giocatori dovranno giocare a rotazione le proprie carte azione, in che modo si pescano semplicemente le prime 6 dal mazzo e tra quelle bisogna selezionarle. Le azioni permetteranno di sparare ai giocatori avversari, ovvero prendere un proiettile e mescolarlo nel mazzo avversario. Questo verrà pescato e sarà inutile nei turni successivi. Si potrà salire o scendere nella carrozza in cui si è rispetto al treno, si potrà camminare avanti e indietro sul treno, si potrà raccogliere bottino nel punto in cui siete, potrete dare un pugno all'avversario che gli farà perdere un bottino e lo spingerete indietro di un passo, o spostare lo sceriffo che sparacchierà a tutti quelli che incontra sul suo cammino. Simuliamo ad esempio uno di questi turni, pesco le prime 6 carte, gioco questa carta, viola giocherà questa, blu giocherà questa, io mi gioco quest'altra carta e così via. Una volta risolte i 4 round si prende il mazzo e si gira, si risolvono quindi le azioni in quest'ordine, rosso spara un proiettile a nero, viola si sposta di una carrozza, quindi la prendiamo e la mettiamo di qua, poi abbiamo blu che decide di salire in copertura, in questo modo, rosso si sposta di una carrozza, rosa decide di raccogliere, si prende un diamantino, blu dà un pugno al nero e lo spinge indietro e così via. Alla fine del quinto turno si sommano i bottini raccolti sul treno, il giocatore che ha sparato più colpi di pistola aggiungerà 1000 dollari e neanche da dire vince il bandito che ha più soldi raccolti. Il regolamento di Colt Express è molto fluido e scorrevole, tra l'altro vi aiuterà nella spiegazione il fatto che è anche molto ambientato a mio parere. Ogni azione infatti corrisponde a un qualcosa di fisico che si muove su questo trenino 3D e una volta che gliela fate vedere, i giocatori riusciranno a immedesimarsi nel personaggio e riuscire ad agire di conseguenza. Vi basterà quindi imbastire un mezzo turno di gioco per capire questa risoluzione delle azioni in sequenza per giocare correttamente. A livello dei materiali, vabbè, l'avete visto sul tavolo, direi che ci siamo proprio. C'è questo treno tridimensionale che fa un sacco di scena sul tavolo, ci sono le decorazioni in più come il cactus, le rocce che vengono messe sul tavolo per colorare ancora di più il tavolo, sono inutili ai fini del gioco, ma c'è la spazio nelle fustelle e quindi apprezzo molto che abbiano deciso di fare questa cosa per un gioco ambientato. Gli omini sono a forma di bandito, ci sono i sacchettini, ci sono le carte molto colorate e bentelate, quindi secondo me non c'è neanche così bisogno di imbustarle. Insomma, a livello di grafica e di design estetico del gioco direi che è promossissimo. Se vogliamo parlare del gameplay però, possiamo dire che a un gamer che si aspetta un gioco di pianificazione, forse Colt Express un po' lo deluderà, perché non c'è casualità nel gioco, mi piace separare queste due tematiche, casualità dalla caoticità, ma il gioco appunto è molto caotico, nel senso che la sequenza di azioni che avete pianificato sarà risolta in quel modo e sarete stati voi a decidere in quale modo, ma le azioni degli avversari, l'interazione diretta è molto alta, potrebbero cambiare completamente la vostra prospettiva. Se volete infatti raccogliere un sacchettino, ma un giocatore prima vi ha dato un pugno, vi ha spostato, oppure voi volevate sparare ma un giocatore si è spostato di una carrozza, o addirittura ha fatto cose strane come spostare lo sceriffo esattamente nella propria carrozza, solo perché voleva salire sul tetto perché non aveva l'azione, insomma, questa imprevedibilità potrebbe un po' dar fastidio a chi è un gamer. Ma allo stesso tempo, se la prendete molto leggera, decidete di fare cacciara con gli amici, ambientarvi in questo assalto al treno e magari tirarvi colpi bassi, proprio per il gusto di tirarvi colpi bassi, allora Colt Express è qualcosa che fa per voi. Un piccolo consiglio che vi voglio dare comunque è, sulla scatola c'è scritto da 2 a 6 giocatori, in 2 giocatori non funziona. Vuoi perché in solo 2 giocatori perde quel pizzico di casino, insomma, che ci deve essere sul treno di questi banditi, vuoi perché vi fa fare un mazzo mixato con due personaggi, potete farvi delle mezze combo, poi avete molto determinismo nel capire cosa sta facendo l'altro, insomma, perde molto dell'appeal del gioco. Secondo me partite dai 3 giocatori in su. In conclusione, valutate questo Colt Express come un 40 minuti in cui vivere un'avventura con i vostri amici, o perché no, anche contro i vostri amici. Avete a disposizione un sacco di longevità perché potete rimescolare i vagoni e quindi rimescolare i tesori che ci sono sopra, avete tutte le carte evento, potete decidere di giocare a squadre oppure allearvi contro qualcuno, giocare cattivi, giocare simpatici, insomma, avete uno strumento per coinvolgere anche nuovi giocatori al tavolo. Secondo me è valido, l'ho preso a essere praticamente a scatola chiusa, secondo me se, appunto, come vi ho detto, scegliete il target giusto di giocatori che siedete al tavolo, sicuramente parte anche una seconda partita. Con questo vi consiglio di fare una prova ad assaltare questo treno e vi dico ciao e alla prossima!